I riflettori di luce ambientale sono andati. Affermativo! Affermativo! I'm a big master! Bene Sam, ti aspetta un viaggetto tranquillo. Affermativo! 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 Uncont summertime rocket DA True Don the Hammer CONDITION Sì, è un po' di tempo. C'è l'edificio centrale. Significa che i robot vogliono eliminare i Marines MS o Pilager. Voglio eliminarli prima che li raggiungiamo. È un modo di fermare qualcosa. Invertendo il mezzo medio del cannone laser in cima, riuscirei a far saltare in aria il Creon. Sconsiglio vivamente di avvicinarsi dal cielo. Sarebbe un suicidio. Qualcuno ha idea di come entrare la tempra? Facciamo breccia nella sua gamba con il cannone a raggi. Non possiamo fare breccia se prima non vogliamo di mezzo questi dannati robot. Ci penso io a questi scarafaggi. Ci sono abituato. I sensori indicano che il Creon sta prendendo di mira la squadra del cannone a raggi. Scondra la zona prima che venga agitata. Ok, passo e chiudo. Qui Mike è 5-1. Abbiamo bisogno d'aiuto dal ponte pedonale per spostare questo cannone a raggi. Ok, passo e chiudo. Ok, passo e chiudo. Ok, passo e chiudo. Sì, sì, sì! 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 in quella breccia. Sono all'edificio centrale e guiderò il salvataggio della squadra MSOB. Sei troppo lontano per usare l'avione. Porta gli ingegneri sotto la breccia Nekreon. Signore, siamo sul ponte, ma siamo circondati da nemici. Può aiutarci. E' un'esergia. ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma sembra che il Creon stia lanciando altri robot. Siamo al camion. Dall'altro lato del ponte! Dall'altro lato del ponte! Dall'altro lato del ponte! Dall'altro lato del ponte! Lo prendo io! Dall'altro lato del ponte! 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 Dall'altro lato! Dall'altro lato del ponte! 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 Dall'altro lato del ponte!